Il 20 e 21 settembre i cittadini della Regione Marche sono convocati a votare il loro nuovo governatore. Le Marche sono infatti una delle sette regioni chiamate alle urne per eleggere il proprio Consiglio regionale assieme a Campania, Liguria, Puglia, Toscana, Veneto e Valle d'Aosta. Quando si vota si comincia domenica 20 settembre alle 7 di mattina e lo si potrà fare per tutta la giornata fino alle 23. Lunedì 21 settembre sarà ancora possibile votare dalle 7 fino alle 15. Dove si vota si voterà soprattutto nelle scuole nonostante la stessa Regione abbia incentivato con contributi straordinari quei comuni marchigiani che non avrebbero utilizzato i plessi scolastici e invece nella maggior parte dei casi le scuole che riapriranno i battenti lunedì 14 settembre dovranno richiuderli lunedì successivo per lasciare spazio alle urne. Come si vota? La scheda per le regionali sarà di colore arancione anziché del tradizionale colore verde. Questo perché sarà di colore verde la scheda elettorale per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari per i quali si esprimerà un voto sì o no nella stessa due giorni di tornata elettorale. Per le elezioni regionali ogni votante esprimerà la sua preferenza per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Si potrà esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza. Se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto sarà automaticamente valido anche a favore del candidato presidente collegato alla stessa lista. La preferenza al candidato consigliere potrà invece essere espressa indicando o solo il cognome del candidato oppure cognome e nome. Si potrà anche votare soltanto per il candidato presidente senza aggiungere alcun voto di lista. È invece vietato il voto disgiunto. Non saranno infatti validi i voti espressi a favore di una lista provinciale e a un candidato presidente non collegato alla lista stessa. Per chi si vota non è per Luca Ceriscioli. Il mandato del governatore pesarese è agli sgoccioli e lascerà lo spazio a un volto nuovo. I candidati a subentrargli sono otto. La coalizione di centro-sinistra sarà espressa dalla candidatura di Maurizio Mangialardi, quella di centrodestra da Francesco Acquaroli. Gianmario Mercorelli è il candidato per il Movimento 5 Stelle, Fabio Pasquinelli per il Partito Comunista, Alessandra Contigiani per riconquistare l'Italia, Roberto Mancini per dipende da noi, Anna Rita Iannetti per Movimento 3V e Sabrina Paola Abanzato per Vox Italia Marche.